...di ritorno del campionato nazionale di Serie A1, girone C, tra Cuschietti e Sporting Club Gaeta. Dirigerando nel conto i signori Marcelli e Marcelli di Tena. ...di ritorno del campionato nazionale di Serie A1, girone C, tra Cuschietti e Benetton. ...ndo di ritorno nazionale di Serie A1, girone C, tra Cusci, tra Cusci, tra Cusci, tra Cusci, tra Cusci, tra Cusci e Bersками. Il numero 13 Onelli, il numero 14 Panariello, il numero 20 Antito Maso, il numero 30 Panariello, il numero 26 Ponticella, il numero 19 Martino, il numero 29 Pettini, il numero 12 Cenzio, a disposizione dell'autore Mauro Pettini. Cuschietti, con il numero 1 Malzano, con il numero 2 Ammirati, Jean Pietro, con il numero 5 Piedra, con il numero 6 il Capitano Paulucci, con il numero 7 Piedra Agostino, con il numero 8 Caccaras, con il numero 9 La Romere, con il numero 10 Alessio Samini, con il numero 11 Pinto Samini, con il numero 14 Seca, con il numero 17 Melia, con il numero 19 Giuffrita, con il numero 20 Ramposelli, a disposizione della Pateressi, in parte Seca, buon diventamento a tutti! Grazie! 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 Grazie. 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 un paio! 1 1 2 1 1 Celsio Pisa 3 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 Grazie! 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 Gracias! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.